Sicuramente il momento è difficile, l'aumento dei costi sta determinando problemi ai cantieri privati e ai cantieri pubblici. Questo ovviamente non ci ferma nel lavorare attraverso l'istituzione di questa cabina di regia tecnica che abbiamo istituito in comune con il direttore generale, il segretario generale e tutti i settori di competenza. Figure tecniche super specializzate saranno protagoniste nella cabina di regia comunale per tradurre in opere pubbliche i finanziamenti del PNRR. Una sfida alla complessità burocratica per veder realizzati effettivamente i 30 progetti finanziati dai 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana, opere nate per combattere il degrado. Il guanto di sfida è stato raccolto. Il Premier Draghi ha dato delle scadenze ben precise di spesa e sappiamo che se andiamo a sforare la spesa già nel 2023 prevede alcuni bandi, se sforiamo naturalmente perdiamo le risorse che andranno magari anche a vantaggio di altre città. Quindi i tempi sono stretti e ci sono stati dati dall'Europa e dallo Stato e naturalmente con il personale a disposizione c'è necessità di fare sintesi perché l'impegno è importante. 30 progetti da redigere in un anno ben capite l'impegno tecnico e professionale richiesto. Ci sono progetti importanti, li abbiamo presentati in queste ore, ovviamente va dal settore dello sport, dai monumenti, alle aree verdi, parchi gioco e quindi le scuole. Quindi importanti interventi che possono cambiare in maniera positiva la nostra città. C'è un filo conduttore che lega tutte le operazioni, cioè verso quale Vicenza punta l'amministrazione Rucco? Una Vicenza che supera il degrado urbano, che punta alla rigenerazione, quindi meno costruzioni nuove più rigenerazione urbana che è uno dei principi cardini che stiamo seguendo per la nostra amministrazione di questi cinque anni.